ok mi ha invitato questa mia amica al matrimonio come da migella ma non sa cosa mettere dovrò comprare un abito forse ma a me quello che secca se io dovrò acquistare un abito che poi non indosserò più o al massimo lo metterò per un video per voi perché stavo cercando allora ho questo è anche carino o no solo che sembra una camicia da notte ma dato che sarà fra due mesi con un giacchetto sopra no dopo sembra io la sposa perché bianco adesso cercherò qualcos'altro adesso cercherò qualcos'altro ciao Grazie. Questo però è bello, con un reggiseno che si addice. Cosa ne pensate? Forse è un pochino trasparente, ma per quello si rimedia, magari una sottogonna. Avrò messo tipo un po' forse una volta. Grazie a tutti.